non è il classico video con l'uovo di basco scratching, morbidissimo non è il classico video con l'uovo di basco ciao ragazzi bentrovati a tutti quanti come state? spero tutto 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 molto bene allora oggi è il 6 di aprile questo video uscirà il 6 di aprile quindi io registro ma non il 6 di aprile ovviamente sono a marzo e questa è la settimana che precede la Pasqua appunto domenica e niente io volevo chiacchierare un po' con voi e volevo approfittare anche di farvi gli auguri gli auguri di una felice e serena Pasqua a voi e e a tutte le vostre famiglie per chi la festeggia Pasqua per chi non la festeggia però comunque buona Pasqua a tutti volevo augurarvi veramente tanta 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 pace nel cuore tanta serenità tanta armonia perché nel periodo che stiamo vivendo veramente a volte c'è ce n'è poca di serenità e noi abbiamo bisogno di appunto di serenità nelle nostre vite di qualcosa che ci rassereni ci rassicuri e ci faccia stare in pace con noi stessi e con gli altri quindi quello che vi auguro veramente non è la solita frase fatta anche se lo può sembrare lo so vi auguro tanta tanta pace e serenità nei vostri cuori nelle vostre case con i vostri amici in famiglia vi auguro tutto il bene di questo mondo ragazzi un augurio dal profondo del cuore io vi mando a proposito di questo ragazzi dato che siamo vicini alla Pasqua io ho in casa un oggetto tipico pasquale che mi è stato regalato l'anno scorso dalla mia amica Anna che alcuni di voi conoscono perché so che in tanti mi seguite su Twitch quindi in live la sera avete avuto modo di conoscere Anna in chat e niente mentre pulivo facevo le mie faccende di casa mi sono imbattuta in un oggetto pasquale molto particolare sto parlando del coniglio pasquale eccolo qua e allora ho detto perché non farci un video con questo spettacolare trigger spaziale e soprattutto pasquale allora è vero che è vero che il coniglio è un simbolo pasquale questo lo so però la mia amica quando me l'ha regalato me l'ha regalato per un altro motivo anche se era Pasqua sapete che io sono amante dei conigli no? e ho una coniglietta di nome Migni perciò per me tutto quello che è a forma di coniglio coniglioso è arte pura e quindi nulla mi ha regalato questo colpo listo che fate bei suoni è fatto tipo in legno ed è interessante come trigger perchè ha delle guardi il legno no cartone e poi carta pesta qui in superficie e alla base sotto deve essere tutto deve essere tutto in polistirolo e quindi volevo regalarvi non il classico video con l'uovo di Pasqua che tra l'altro in questo periodo non posso mangiare sto lontana dal nickel quindi la cioccolata avendo nickel ragazzi la evito e inizia a farvi il solito video con l'uovo di Pasqua faccio un video trigger con questo splendido coniglietto e un'altra cosa scratching moltissimo sul visetto vediamo se facciamo un po' di brushing col pennello questi sono i pantaloni potevo fare il video con Minnie ma in realtà Minnie ragazzi mica si sta, non si sta, non si sta mai fermo poi la carotina con questo giuffetto qui con questo giuffetto qui sembra vero questa è la auricola libertà ok, 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 ok Sì dimenticavo di dirvi che anche lui vi augura buona pasqua e anche Minnie e Luna ho paura di stoccarli alle orecchie però sentite che bel sonno fa tipo un fogarello poi sono inserite bene devo dire molto semplice però è fatto molto bene anche un bottone qui anche un bottone e anche un bottone che 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 sa a casa se avete questi gadget però a me tutte quelle cose che richiamano gli animali particolari conigli anche gatti piacciono tantissimo Proprio proprio tanto ragazzi pensate che ho anche qualche accessorio, cioè qualche soprammobile della DUN, della Disney con un paperino, un paperino, un mini topolino poi c'ho anche Frozen, vabbè, c'ho Olaf c'ho qualcos'altro forse, non ricordo, comunque c'ho un po' di roba allora c'ho tutti questi animaletti vicini, poi ho qualche coniglietto saprotunno però non Disney che suono quindi la DUN, della DUN, della DUN, della DUN la DUN, della DUN Grazie a tutti 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 I migliori auguri di buona Pasqua Di una serena e felice Pasqua A voi e alle vostre famiglie Ciao ragazzi Ci rivediamo nel prossimo video Ciao